Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. SUV contro tir, SUV distrutto, tir completamente ribaltato, tanto da bloccare un'intera carreggiata. La scena raggelante che si è presentata agli occhi dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e dai soccorritori giunti sulla strada statale 691 nel territorio del comune di Caposele per un grave incidente stradale. Nel violento impatto una donna è stata sbalzata fuori dall'autovettura, una 28enne di Rocca San Felice, consegnata ai sanitari del 118 intervenuti e trasportata presso l'eli superficie dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per essere trasportata in eliambulanza, visto le sue gravi condizioni, e ricoverata al Cardarelli di Napoli. Si è reso necessario l'intervento dell'autogru della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Avellino per recuperare l'auto articolato che si è ribaltato. Alla guida del TIR, un sessantenne della provincia di Salerno, curato all'ospedale di Oliveto Citra, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il drammatico incidente si è verificato lungo il fondo Valle Fsele, uno scontro frontale tale tra la Jeep Renegade e il TIR che viaggiava a pieno carico, che la 28enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella, cui toccherà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente del TIR è stato già ascoltato per la testimonianza della donna in prognosi riservata. Bisognerà aspettare che le sue condizioni migliorino. Ovviamente l'incidente ed il TIR, messo di traverso, hanno creato parecchi disagi alla circolazione. L'arteria statale 691 è rimasta chiusa fino alla completa rimozione dei mezzi. E questa mattina siamo stati a Rocca San Felice, dove c'era sgomento per quanto accaduto, ma anche un cauto ottimismo per le condizioni di Veronica, che sembrerebbero in miglioramento, come spiega il sindaco Guido Cipriano. Siamo stati tutti colpiti di questa notizia perché è una ragazza che conosciamo tutti, lavora nell'unica farmacia comunale. La consolazione è che le notizie sono buone, nel senso che è vero che è stata operata stanotte, però lei è imperfetta, conosce tutti, anzi scherza pure da quello che mi ha detto lo zio. E aspettiamo solo che aprono per poterla andare a trovare, salutarla, e esprimere la nostra vicinanza a lei e a tutti i familiari.